Ma perché non riservate il taxi all'albergo? Siamo già in ritardo, lo sai che stavola domenica odiano anche se arrivi in ritardo. Ci sono taxi dappertutto in Milano, non c'è problema. E tu cosa ne sai? È tutto, la moda, il risotto, le donne. Taxi! Buonasera, iGold è piazza Risorgimento. E per favore un po' in fretta che siamo pure in Italia. Grazie. Ehi, come sei? Faccio? Ok, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Mi scusi, signorina. Questo è il mio primo giorno come tassista a Milano. Io non sono di Milano, non conosco bene la città. Ma non si preoccupi perché ho la cartina. Questo è il nostro possibile oggi. Porso, porso, porso. Mi scusi, ci può accostare perché magari è meglio prendere un testo a che conosca Milano. Ma non si preoccupi signorina, in cinque minuti ci siamo. Non si preoccupi, si fidi o la cartina. Non si preoccupi signorina, io ho la cartina e so perfettamente dove sto andando. Lei non lo sa dove stiamo andando, stiamo verso il rapporto di Vigilante. Signorina, aspetta di che le pietre le mie porti. No, lei non lo sa. Don St. Clair. Non si preoccupi, non si preoccupi, non si preoccupi. C'è qualcuno? Io che il chiamo? Non c'è più nessuno. È stata la serata più romantica della mia vita. Grazie. Andiamo a letto? Andiamo.